Sì, signore, per chi mi ha chiamato? Non c'è più niente da fare, ha risolto un gattino. Come ha risolto un gattino? Ora possiamo tornare tutti nell'isola? Sì, ora possiamo tornare tutti nell'isola, finalmente. E annuncialo alle persone. Gli animali? E' molto semplice, ovviamente ora che mi poteri puoi farlo, però devi avere esperienza a farlo, quindi devi costruire un macchino potente. Io invece che già lo sapevo fare, quando ho fatto rinascere tua madre o gli altri persone cattive, praticamente già lo sapevo fare, quindi c'era bisogno di un macchino poco potente. Ora tu hai bisogno di un macchino potente che ti farò costruire da mia sorella, Jules. Ok, quindi puoi farlo rinascere mio padre? Sarà facile? Sì, costruirà questo macchinario e grazie ai tuoi poteri rinascerà. Dovrebbe essere qui a risolvere i problemi che ho commesso nella città. Ecco, qua. Ciao, Jules! Ciao! Jules, quando finisci di costruire, puoi venire con me? Un mio amico ha una cosa da farti fare. Ma certo, sto finendo. Ora ti do tutti gli utensili per andare a costruire questa cosa. Ah, tu dovresti essere la sorella di Mida, giusto? Sì, dove lo devo fare? Lo devi costruire? Proprio qui, guarda, ecco, brava, sì, vicino al falofo. Vediamo come costruisci. Dovrebbe essere qua, torlo al falofo. Ecco, brava, sei molto brava, sembri. Speriamo che riesci a costruire quello che voglio io per far rinascere mio padre. Vediamo. Eh, brava, sei molto brava a costruire. È molto veloce, fa il prima possibile, mi raccomando, eh. Quando finisci ti consiglio di andartene perché potrebbe stare pericoloso. Quindi, eh, le ultime costruzioni, ti dico, sono molto difficili, non c'è scritto nel foglio. Eh, quindi, eh, qua, ecco, brava. Ora devi fare, devi un po' spaccare il muro e farlo diventare un altro modo. Queste cose mi hai insegnato il tuo fratello. Eh, grazie a lui. Eh, riesco a fare queste cose. Andiamo. Ecco, dovrebbe essere pronta. Ecco, vai. Vediamo, dovrebbe essere dietro questa porta. Ecco. Eccolo, qua. È una statua, vero? Eh, ora devo accendere in teoria il falò. Eh, dovrebbe ritornare come nuovo, diciamo. Ecco. Ok, tutte le muore ci sono tante. Ciao, ma che succede? Cos'è successo? Aiuto. Eh, ero contro Mida. Sì, sei morto da lui. Però mi ha fortuna, ho preso i suoi poteri. Lui è diventato buono e... E sono riuscito a forti rinascere. Vero. Grande, Gitte. Lo sapevo che eri così potente. Bravo. Ora sono tornato come prima. Super potente. Che bello. E' un punto zero instabile. Potrebbe esplodere o portare nuovi personaggi gattivi nell'isola. Sbrighiamoci. Dobbiamo fare qualcosa. Ciao. Eh, finalmente siamo qui. Eh, vediamo cosa dobbiamo fare. Vediamo qui il terreno. Perché potrebbe... Possiamo capire qualcosa per rinventare il laboratorio. Certo. Vediamo. Mm, molto interessante. Sì, è molto interessante. Sì, è molto interessante.